Un cuore pieno di anni, come prendersi cura di un cane anziano. Ciao a tutti, amici, a quattro zampe e ai loro cari umani. Oggi parliamo di un tema molto importante, la cura dei cani anziani. I nostri amici pelosi vivono ogni giorno con gioia, ma con il passare del tempo sentono il peso degli anni. Il loro pelo inizia a imbiancarsi, il passo diventa più lento e l'energia si affievolisce. Tuttavia, la loro vita può essere ancora piena di felicità. E qui il nostro ruolo diventa fondamentale. Dobbiamo essere presenti e amorevoli per garantire loro una vecchiaia serena. Alimentazione. Il cibo giusto per il vostro amico anziano. Proprio come cambia il nostro corpo con l'età, anche quello dei nostri cani richiede attenzioni particolari. La digestione diventa più lenta, il metabolismo si modifica e alcuni alimenti, che una volta erano graditi, possono diventare difficili da tollerare. È importante scegliere un'alimentazione specifica per cani senior, ricca di nutrienti e facile da digerire, come una buona minestra calda. Fate attenzione alle porzioni per evitare l'obesità, che potrebbe aggravare problemi già esistenti. Ricordate, una dieta equilibrata è il primo passo per garantire una vita lunga e sana al vostro cane anziano. Movimento dolce. Attività fisica per articolazioni mature. Anche se il vostro cane non ha più l'energia di un cucciolo, il movimento rimane essenziale per mantenere le articolazioni flessibili e i muscoli tonici. Scegliete attività a basso impatto, come brevi passeggiate al parco, nuotate in acque poco profonde o giochi tranquilli in giardino, magari nascondendo una pallina sotto un cespuglio. Evitate movimenti bruschi o salti, che potrebbero causare traumi. L'obiettivo non è la performance, ma il benessere. L'importante è che il cane si muova con piacere e senza sforzi eccessivi. Riposo e comfort. Un rifugio sicuro. Con l'avanzare dell'età, i cani tendono a dormire di più e a cercare un posto caldo e confortevole dove riposare. Assicuratevi che il vostro amico peloso abbia una cuccia morbida e accogliente, posizionata in un luogo tranquillo, lontano dalle correnti d'aria. Se soffre di dolori articolari, un cuscino ortopedico può essere un grande aiuto. Il riposo è fondamentale per il loro benessere, quindi fate in modo che il loro spazio sia davvero un rifugio sicuro. Controlli regolari dal veterinario. Prevenzione e cura. Come noi facciamo controlli medici regolari con l'avanzare dell'età, anche i nostri cani ne hanno bisogno. Le patologie legate all'età, come l'artrite, i problemi cardiaci o renali, sono comuni, ma una diagnosi precoce può fare la differenza. Non sottovalutate l'importanza della prevenzione. Seguite le indicazioni del vostro veterinario di fiducia e assicuratevi che il vostro amico riceva tutte le cure di cui ha bisogno. Amore incondizionato, il regalo più grande, il dono più grande che possiamo fare ai nostri cani anziani è il nostro amore incondizionato. Dedicate loro del tempo ogni giorno, anche solo per stare seduti accanto a loro, accarezzandoli e facendo sentire la vostra presenza. Parlategli con dolcezza, guardateli negli occhi e fateli sentire amati. L'amore è un linguaggio universale che anche i nostri amici a quattro zampe comprendono perfettamente e in questa fase della loro vita ne hanno più bisogno che mai. Un atto d'amore e gratitudine. Prendersi cura di un cane anziano è un atto di profondo amore e un grande privilegio. È il nostro modo di ringraziarli per tutti gli anni di gioia e fedeltà che ci hanno donato. I cani anziani hanno ancora tanto amore da offrire e possono arricchire le nostre vite in modi inaspettati.